Dal 2021 aspettiamo oltre mezzo milione di visitatori all'anno che possono attraversare il Corridore Vasariano ammirando le vedute di Firenze e imparando la storia di questa città unica al mondo. Si tratta di un'apertura veramente democratica a tutti e il Corridore Vasariano restaurato e sicuro grazie al fatto che le persone vengono trasportate dal quadrilatero romano all'Oltrarno ci sarà anche una grande fioritura di tutto l'Oltrarno la quale patriciperà tutta la città. Per giunta direttamente creeremo decine di nuovi posti di lavoro e l'indotto ne creerà altri.